Quindi Giorgio, in questi messaggi che tu hai scritto, che collocano il segno che tu porti sul tuo corpo, sulla scia della tradizione e degli stigmatizzati, ma tu, partendo da questo che hai detto su Padre Pio, di fatto pubblicamente, perché Padre Pio l'ha detto, ma poi diciamo è rimasto lì, forse lo si è capito, chi l'ha capito in questi ultimi tempi, ma tu nasci proprio con un sincretismo pubblico palese sin dal primo momento della stigmatizzazione, cioè le stimmate, quindi il mistico e il divino che si lega al cosmico. Certo. Perché in questo tempo? Che importanza ha questo? Perché questo è il tempo dell'evento del Consolatore, cioè la verità che farà liberi, cioè quel messaggero o, per evitare fraintendimenti come se io volessi dire che io sono io, no, quel messaggero, cioè quell'educazione, quel messaggio, quell'insegnamento che da Eugenio Siragusa ad oggi ci ha trasmesso il cielo e il Consolatore siamo stati questi strumenti, da Eugenio al sottoscritto, aver rivelato la verità che duemila anni fa non poteva essere rivelata. In sostanza, l'associazione, l'unione tra l'aspetto religioso, spirituale delle chiese, in particolare la chiesa cattolica, con l'aspetto scientifico che riguarda la presenza di esseri extraterrestri. Per la prima volta nella storia, ecco, un messaggero, uno stigmatizzato, insomma uno mistico, dei mistici, rivelano che gli esseri dell'universo esistono e sono gli angeli di ieri extraterrestri oggi. Quindi noi ci dobbiamo preparare a un contatto con esseri che su Dio la sanno più lunga di noi, oltre ad essere degli scienziati che possiedono una tecnologia per noi impensabile. Sono anche dei teologi, mentre fino adesso la comunità ufologica, fino a pochi anni fa, appunto però poi Eugenio, Adamski e altri, hanno portato una nuova versione, pensava che gli alieni sono delle civiltà umane, chissà addirittura laiche, o forse atee, o forse che dimostreranno all'umanità che Dio non esiste, e tutta la vita si basa solo sulla scienza e sulla coincidenza della perfezione dell'universo. Già la coincidenza della perfezione dell'universo è una contraddizione in termini, non può esistere perfezione nelle coincidenze, la perfezione esiste semmai dovesse esistere grazie all'intelligenza che la compone, che la crea. Quindi la scienza sarà costretta ad ammettere che questi esseri non erano altro che tutti gli esseri che hanno raccontato nei testi sacri. Questa è la novità che ha portato Giorgio e prima di Giorgio Eugenio al mondo. Meglio di noi non l'ha portata nessuno, non perché siamo più bravi, ma perché è stato dato a noi il compone. Adamski fece qualche accenno a questi esseri, ma noi abbiamo parlato, Eugenio prima e dopo Giorgio e altri come me, ma sempre tutti della comunità di Eugenio Siragusa, hanno parlato, hanno raspiegato la natura angelica di questi esseri e hanno spiegato la natura divina di Dio, la natura divina di Cristo e la natura umana di Gesù. Perché Gesù era uno di loro e il Cristo è l'intelligenza che muove la creazione, in particolare l'organizzazione dei sistemi solari e delle galassie che sono le stelle. E poi c'è la causa di tutto, che è quello che chiamano Spirito Santo. Quindi questi discorsi siamo stati noi a portarli. Questo hanno portato i segni dell'estima a te, se vuoi. Quindi cattolico, cristiano, credo nei precetti della Chiesa, vado a messa con i sacerdoti, quelli che reputo onesti, con i corrotti, invece faccio loro la guerra. Non solo non vado a messa, ma gli faccio proprio la guerra contro, perché io mi identifico nel Battista che gridava e accusava i corrotti. Ma sono un cattolico che crede nella Chiesa di Cristo, ma dobbiamo ridimensionare alcuni messaggi che Cristo ha dato che la Chiesa non ha saputo interpretare, ma io penso non ha voluto, perché la Chiesa, che non andrà mai nell'inferno perché Cristo la salverà, però la Chiesa si è prostituita ai valori della materia, ai valori della corruzione, tralasciando spesso nei millenni il valore spirituale del messaggio cristico. Quindi diciamo così che sono venuto io e altri modesti messaggeri come me a riformare la Chiesa Cattolica di Cristo, riportandola sul piano della logica moderna. Altrimenti facciamo l'errore quando credevano che la terra era piatta e hanno bruciato vivo persone come Giordano Bruno, che magari erano illuminati. Invece noi questa volta non dobbiamo fare come ha fatto Giordano Bruno, che si spogliò degli abiti. Io all'inizio mi sono spogliato del credo cattolico, adesso mi sono rimesso gli abiti del credente, ho fatto battezzare i figli miei e io già lo ero, perché voglio combattere all'interno della Chiesa Cattolica e riportarla alla Chiesa Cosmica, che è quella che vuole Cristo. Il Papa è, credo, un illuminato. lo conosco nel senso simbolico della parola, se mi è concesso almeno questo a dirlo, e lo rispetto perché è uno che attacca il potere. Grazie a tutti.